Quindi io dico, il cardinale Bergoglio ha un temperamento latino-americano, e cioè è immediato, è populista, è uno che vuole facilmente conquistare le masse, è uno che passa dal ridere di cuore alla serietà estrema. Il suo successore ci metterà nei guai, sarà santo, recupererà le vesti della sacralità, solenne in ogni suo atto, sarà molto dura per noi. Mi state capendo? Perché allora potranno dire anche questi dell'unacum facilmente capaci di lasciarsi imbrogliare, ecco, ve lo dicevamo noi a voi che ve ne siete andati, adesso abbiamo un Papa che è serio. In realtà con quella solennità da gufo scenderà la notte più profonda nel cattolicesimo romano, perché se Bergoglio ha avviato, il suo successore porterà a compimento l'ingresso dell'anticristo. Non dimenticate queste parole, perché io non so quanto sopravvivo, non dimenticate queste parole figlioli cari, non fidatevi di chi verrà dopo, è tutto invalido.